Parecchio! Basta! Nessuno andrà via, dobbiamo andare a fondo a questa storia. Ecco perché non ammo mangiare fuori. Hai paura di queste situazioni? Un pochino sì, e odio calcolare la mancia. Lady and Gentleman è un mistero. E la domanda è, dov'è il manzo? Ognuno qui ha ora un sospetto. E il ladro non può andarsene a zonzo. È già un muovente, lo scandalo serve per questo è stata lei. Ti monti una storia, ti prendi la gloria e il Pulitzer vincerai. Io ho un vago sospetto, è stata Kendra! L'ho fidanzata del momento. Perché quel frullato di carne avrebbe generato un alito orrendo. Questo è un vero giallo. Un vero giallo. Io ti ho conto in fallo. È un vero giallo. Se fosse stato proprio lo chef, per lui frullare la carne era da panzi. È ovvio gente è stato Ambrose. Lui frullerebbe la sorella Bizzi. È Bizzi che ha organizzato. Chiudi il tuo ricettario, era tutto premeditato. Oppure è stato il tuo maggiordomo, assistente personale. Sempre molto attento al suo tornaconto. Quante selvagge accuse contro il coltello alla mano. Tra di l'ascia in bocca un sapore mazzano. Questo è un vero giallo. Un vero giallo come un tallo nel cervello. Un vero giallo. Io ti ho colto in fallo. Ti ho colto in fallo. Chiunque avrebbe potuto rubare la bistecca, tranne te, ovviamente no.